Lo sviluppo per la pace nel Mediterraneo, l'armonico sviluppo economico-sociale dei paesi del bacino Mediterraneo quale fattore di stabilità e di pace. Questo è il senso della diciottesima conferenza dei Lions del Mediterraneo che oggi celebra la sua ultima giornata nel porto turistico Marina di Pescara alla presenza del presidente internazionale dei Lions, Joe Preston. In un clima di pace e di comprensione reciproca a portare qui tutti i paesi che sono nell'area mediterranea per la costruzione di progetti comuni. Ripeto sempre che dove c'è un bisogno, lì c'è un Lion. Cerchiamo di rispondere ai bisogni della comunità nel miglior modo possibile e a noi possibile. I bisogni di oggi sono gli stessi di ieri e non sappiamo che cosa succederà nel futuro. E' per questo che noi prestiamo orecchio alla comunità e riusciamo a capire quali sono i problemi, quando saranno, anticipare i problemi del futuro. Ci troviamo in una zona un po' calda, quella del Mediterraneo, anche per i fatti che sono accaduti. Che cosa possono fare i Lions nel loro piccolo o nel loro grande per far sì che le cose vadano meglio? Cercare di aumentare la qualità della vita delle persone che vivono in questa area in modo che effettivamente possano condurre un'esistenza più dignitosa. Grazie. 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 Grazie.